ben ritrovati qui sulle fonti tv siamo pronti con una nuova puntata di doppio binario di cosa parleremo oggi gabriele parleremo della tutela della salute della sicurezza dei lavoratori e dell'importanza anche della formazione in questo senso grazie ai nostri ospiti bene allora a tra poco a tra poco un saluto a tutti gli amici di doppio binario come anticipato in apertura quest'oggi parleremo di salute e sicurezza sul lavoro lo faremo con i nostri ospiti qui studio che saluto inizio dall'avvocato stepania pezzini partner dello studio genesis avvocati buongiorno buongiorno grazie e anche e ovviamente giovanni zucchini fondatore di ibi human buongiorno buongiorno a lei inizierei dall'avvocato pezzini qual è il testo normativo a proposito proprio di salute e sicurezza sul luoghi di lavoro qual è il testo normativo di riferimento allora quando si parla di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro il testo normativo di riferimento è il decreto legislativo 81 del 2008 che è stato emanato proprio con l'intento di accorpare e di coordinare tutte le norme che in materia di sicurezza sul lavoro si erano stratificate alla data della sua entrata in vigore che è appunto il testo unico della sicurezza sul lavoro in quanto tale il decreto legislativo 81 ha un ambito di applicazione molto basso in quanto si applica a tutte le aziende sia pubbliche che private indipendentemente dal settore di attività nella quale esse operano e indipendentemente anche dall'aspetto dimensionale in quanto è sufficiente anche l'assunzione di un dipendente affinché i precetti del decreto legislativo 81 debbano trovare applicazione all'interno dell'azienda dal punto di vista dei contenuti il decreto in quanto punto testo unico che quindi accorpa tutta la disciplina va dalla valutazione preventiva che il datore di lavoro deve effettuare per verificare quali siano i rischi connessi all'attività aziendale sino all'individuazione delle migliorie delle misure che devono essere adottate implementate dal datore di lavoro affinché l'azienda possa appunto riconoscersi come conforme ai precetti del decreto e la cui violazione a tutti gli effetti può esporre l'azienda all'applicazione di significative sanzioni la ringrazio io passerò passerei la parola a questo punto ad zucchini lei è il fondatore di id human ci parli un attimo di cosa di cosa si occupa cosa cos'è e soprattutto qual è la vostra posizione in termini sicurezza sul lavoro ibi human nasce proprio come progetto evolutivo di un'esperienza imprenditoriale nel settore dell'energia del petrolio dove questi temi sono stati anticipati diciamo dal fatto dell'ambito internazionale per cui da prescrizioni che venivano da enti internazionali relativamente ai grandi danni che possono provocare questo tipo di impianti questa esperienza che abbiamo maturato nei confronti di di questo argomento per cui della sicurezza e della salute ci hanno portato poi a diciamo a evolvere il progetto da temi specifici per cui quelli che possiamo ritrovare all'interno della legge per cui la valutazione dei rischi a poi andare a definire che tutti questi ambiti legislativi hanno poi un imbuto finale che è l'uomo cioè poi la persona i suoi comportamenti le certitudini il suo modo di agire perché così come individuato anche dal legislatore non riusciamo a esaurire l'argomento esclusivamente dando delle direttive o imponendo delle regole ma è nel buon comportamento delle persone questo è il progetto su cui poi ha fondato abbiamo fondato questa nuova iniziativa che aiuta diciamo sviluppo ulteriormente il comprendere dei nostri processi umani nell'agire all'interno dei ruoli di lavoro e non solo questo è in sintesi la nostra idea in questo progetto si porta dentro un tipo di formazione che non è esclusivamente quella che oggi viene fatta relativa alla legge e ai comportamenti legati alla normativa ma proprio dell'agire umano per cui una comprensione della nostra intelligenza emotiva, del nostro modo di essere, del nostro modo di relazionarci con gli altri La ringrazio, io tornerei a lei avvocato, dunque allora in ambito giurisprudenziale in ambito insomma qual è la dottrina prevalente proprio in questo tema di sicurezza sul lavoro? Ma allora le norme in materia di salute e sicurezza su luoghi di lavoro mirano evidentemente a tutelare il lavoratore dal rischio di infortuni sul lavoro e da una lettura della giurisprudenza che ormai dopo 12 anni di applicazione del decreto ci offre un ventaglio abbastanza basso di casistiche possiamo dire che la giurisprudenza è sostanzialmente orientata a riconoscere sempre quando si verifica un infortunio una responsabilità in capo al datore di lavoro o perché non ha adottato le misure necessarie e previste dal decreto legislativo per evitare che gli infortuni si verificassero o perché ha omesso di vigilare affinché le sue prescrizioni fossero effettivamente attuate dai lavoratori e la circostanza che il lavoratore abbia in qualche modo concorso colposamente nell'accadimento dell'infortunio non ha mai un effetto esimente della responsabilità del datore di lavoro se non in casi che possiamo considerare del tutto eccezionali quando alla condotta del lavoratore viene riconosciuta la caratteristica di abnormità, di esorbitanza e quindi è riconosciuta come effettivamente la causa esclusiva dell'evento ma questi sono casi veramente molto eccezionali normalmente, come dicevo, la responsabilità del datore di lavoro può tutt'al più essere attenuata da un comportamento colposo ma non esclusa dunque quello che obiettivamente appare evidente è che dottrina e giurisprudenza riconoscano sempre d'attore di lavoro e lavoratore come figure contrapposte rispetto al tema sicurezza sul lavoro e non come due attori che concorrono nella realizzazione di quello che in realtà è un interesse comune quello dell'esercizio sicuro dell'attività lavorativa la ringrazio, posso a lei Zucchini per un'ultima domanda così chiudiamo questa prima parte di doppio binario ecco, quello proposto da voi, da ID Human può essere inteso anche come un modo diverso di vedere la sicurezza sul lavoro? sicuramente in questo senso proprio ricollegandomi alle parole dell'avvocato Pezzini c'è un'identità di vedute abbiamo già sviluppato progetti con aziende dove l'imprenditore stesso richiama i suoi lavoratori che il primo obiettivo imprenditoriale che ha è quello di riportare a casa tutte le sere i lavoratori non c'è interesse da parte di nessuno della classe imprenditoriale per cui abbiamo identificato in un problema, in una natura di conoscenza culturale il comportamento e l'attitudine dentro i luoghi di lavoro una volta ci si affidava i vecchi, a quelli con l'esperienza oggi purtroppo spesso non li troviamo e per cui dobbiamo dare qualche strumento innovativo noi utilizziamo il cinema utilizziamo come progetto formativo utilizziamo dei gaming per cui diamo una mano alle organizzazioni a fare in modo che la sicurezza sul lavoro diventi parte della cultura di impresa così come saper fare la cosa non è una cosa esterna, non è una regola è un modo di agire e in questo ambito si muove la nostra organizzazione ringrazio allora ringrazio ancora una volta lei Zichini per essere stato qui con noi e ringrazio naturalmente anche l'avvocato Pezzini per i suoi interventi molto interessanti dunque qualche minuto di pubblicità poi rientriremo qui in studio ancora una volta con i nostri ospiti per la seconda parte di Doppio Binario restate qui con noi Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario continuiamo a parlare di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e ci concentriamo adesso sulla centralità dell'elemento organizzativo e formativo appunto nella tutela della salute dei lavoratori lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento nuovamente che sono l'avvocato Stefania Pezzini partner dello studio Genesis Avvocati buongiorno benvenuta anche da parte mia e il dottor Giovanni Zucchini fondatore di IB Human benvenuto buongiorno ecco avvocato parto da lei e le chiedo quale rilevanza effettivamente ha l'organizzazione del lavoro nella tutela della salute dei lavoratori sicuramente l'organizzazione del lavoro ha un ruolo centrale in questo ambito tant'è che il decreto legislativo 81 che appunto costituisce il testo unico delle leggi in questa materia nell'articolo 15 declina esattamente quelli che sono tutti gli obblighi, tutti gli adempimenti che devono essere compiuti dal datore di lavoro affinché siano rispettate e tutelata la salute dei lavoratori e nel fare questa elencazione ripercorre, riprende meglio di quanto non avesse fatto il decreto legislativo 626 del 94 quelli che sono i quattro pilastri della salute e sicurezza sul lavoro che erano stati riconosciuti dalla direttiva quadro europea che sono la prevenzione, la programmazione, la partecipazione e l'aggiornamento tecnico dove per prevenzione si parla della valutazione dei rischi che deve essere compiuta dal datore di lavoro in via preventiva per assicurare un sistema di procedure che tutelino i propri lavoratori per programmazione si intende il servizio di prevenzione e protezione che va a supporto del datore di lavoro per partecipazione i diritti e i doveri del datore di lavoro e del lavoratore di informazione e formazione specifica e per quanto riguarda l'adeguamento tecnico il continuo aggiornamento delle procedure che l'impresa adotta proprio per la tutela del lavoro che devono ovviamente essere costantemente aggiornate sia rispetto all'evoluzione dell'attività dell'impresa sia rispetto alle migliori tecniche che vengono messe a disposizione. Dunque sicuramente l'organizzazione conserva un ruolo assolutamente centrale e non solo deve essere tarata sulle caratteristiche sia dimensionali che relative all'attività dell'azienda ma deve anche essere perfettamente integrata rispetto a tutti gli altri sistemi di gestione che il datore di lavoro ha implementato in azienda. Certo, lei ha toccato anche un punto molto importante che vorrei sviluppare con il dottor Zucchini che è quello proprio della formazione ecco, si può dire effettivamente che l'organizzazione del lavoro passi proprio attraverso la formazione del lavoratore? Si deve dire. È necessario pensare che nell'ambito organizzativo ci sono degli sviluppi abbiamo verificato in passato che proprio nello scambio di informazioni tra la direzione aziendale e la sua organizzazione che abbiamo avuto misunderstanding da questo punto di vista e per cui la formazione va anche a correggere questo tipo di situazioni una formazione che non è legata al decreto legge ma legata ai comportamenti umani ed è anche in ragione di questo che noi abbiamo nel tempo sviluppato un prodotto diverso rispetto alla formazione standard sulla sicurezza e la salute dei lavoratori che viene data e che è obbligatoria per decreto che accompagna invece le organizzazioni a sciogliere questi nodi cioè a fare in maniera tale che il nostro personale sia formato anche per rispondere nei confronti di ordini che non ha compreso o di situazioni che a suo giudicare non sono conformi nell'agire in maniera tale da avere un rapporto di reciprocità per cui la formazione è centrale l'aggiornamento è centrale per cui non è un evento che uno fa una volta e come la patente di guida si può permettere di rinnovarla soltanto facendo una visita america è un incontro periodico in momenti determinati che sviluppa singoli argomenti ma che recupera sempre quello spirito iniziale di fare in maniera tale che la salute e la sicurezza siano parte delle procedure aziendali come ho detto è parte della formazione del prodotto finale dell'azienda non è un di cui questo in sintesi quello che vedo che abbiamo sviluppato sulla formazione e che ci porterà a riuscire finalmente a diminuire le morti sul lavoro come sappiamo ad oggi in Italia sono una media di 3 al giorno che è una cifra fonda direi dal nostro punto di vista ecco la formazione è la cura è la cura per questo tipo di situazione ed è deve essere continua certo quindi formazione partecipazione attiva del lavoratore avvocato le chiedo appunto la partecipazione è un elemento essenziale dell'organizzazione del sistema di tutela e sicurezza sul lavoro il lavoratore è chiamato a partecipare attivamente nell'implementazione del sistema di sicurezza su luoghi di lavoro infatti il decreto legislativo 81 mira proprio ad una responsabilizzazione del lavoratore e laddove nell'articolo 20 all'arcoma 2 declina gli obblighi che gravano sul lavoratore non è un caso che ponga come primo punto proprio quello di collaborare di contribuire con adattore di lavoro dirigenti e preposti all'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro perché dalla condotta del lavoratore discende la tutela sia della propria persona ma anche l'integrità di tutti gli altri lavoratori sui quali inevitabilmente si riverberano gli effetti della sua condotta certo e dottor Zucchini so che appunto IB Human organizza dei corsi specifici su questo tema le chiedo qual è il vostro approccio e che tipo di corsi organizzati come dicevo prima noi si siamo spostati dalla formazione di legge diciamo dagli obblighi legislativi della legge 81 e sulla formazione e abbiamo integrato quel tipo di formazione con un prodotto più mirato a dare questo empowerment forte alle persone tant'è che dal nostro sito idhuman.org si possono rilevare i vari tipi di formazione che possono essere a distanza, in presenza anche dettagliati sul tipo di organizzazione perché una cosa che la legge ha chiaramente identificato è che ogni organizzazione non ha un copia e incolla di come si agisce deve analizzare se stessa e per cui facciamo anche formazione mirata diciamo che in questo momento il prodotto che stiamo lanciando è un prodotto sull'intelligenza emotiva che è un'evoluzione ulteriore per cui è un prodotto avanzato rispetto al tema che stiamo trattando perché riporta poi il lavoratore nella sua dimensione di essere umano e come essere umano del fatto di uno poi arrivare al lavoro che è sovra pensiero può avere le sue preoccupazioni tutta una serie di fattori che poi gli impediscono di agire nella maniera corretta durante il lavoro e siccome l'obiettivo dell'imprenditore e del lavoratore è tornare a casa la sera dobbiamo dargli tutti gli strumenti che questa cosa gli permetta di succedere e allora questi sono il tipo di prodotto che forniamo noi custom made o standard ma che guardano sempre all'uomo nel suo agire all'interno dei ruoli di lavoro certo poi ricordiamo che soprattutto in questo momento le preoccupazioni sono molteplicate all'ennesimo livello bene io vi ringrazio per essere stati con noi l'avvocato Stefania Pezzini partner dello studio Genesis Avvocati grazie a voi dottor Giovanni Zucchini fondatore di I Be Human grazie mille grazie a voi grazie anche ai nostri telespettatori appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario grazie a voi